Grazie al design modulare di SICAM 8000, è possibile implementare in modo rapido e flessibile ogni configurazione personalizzata. Ti mostreremo ora come funziona nel dettaglio. I connettori BUS collegati dietro i moduli garantiscono un'alimentazione affidabile e uno scambio di dati, coerente senza cablaggi aggiuntivi. Ad ogni modulo viene assegnato il proprio connettore BUS. Su ogni modulo, il connettore BUS adatto è già collegato e fissato con due ganci di bloccaggio. Tira il gancio di bloccaggio superiore, verso l'alto e premilo, leggermente indietro, fino a quando non si aggancia all'alloggiamento. Fai lo stesso con il gancio di bloccaggio inferiore. Quindi, rimuovi il connettore BUS dal modulo. Monta il connettore BUS sul lato superiore della guida DIN e premilo sul lato inferiore per bloccarlo. Allo stesso modo, monta i connettori BUS su tutti i moduli SICAM a 8000 necessari. Successivamente, spingi insieme i connettori del BUS lungo la guida DIN. Prima di tutto, collega il modulo di alimentazione al connettore BUS associato. Assicurati che il modulo non si ribalti verso l'alto o verso il basso, ma che si posizioni ad angolo retto rispetto alla guida DIN. Quindi, premilo sul connettore del BUS. Uno dopo l'altro, premi leggermente dalla parte posteriore, verso i due ganci di bloccaggio in modo che si aggancino saldamente alla guida DIN. Ora monta il secondo modulo, in questo caso, il modulo processore CP8050. Sposta la linguetta del modulo processore lungo la scanalatura del modulo di alimentazione già inserito, fino a quando non è completamente collegato al connettore del BUS. Successivamente, blocca il modulo sulla guida DIN con i due ganci di bloccaggio. Monta tutti gli altri moduli nello stesso modo. Nota! I moduli SICAM A8000 devono essere montati e rimossi solo se disalimentati. Pertanto, spegnere l'alimentatore durante il posizionamento del modulo prima di ogni modifica. Se si desidera rimuovere un modulo, è necessario un cacciavite di lunghezza adeguata. Inserire il cacciavite nel gancio di bloccaggio superiore. Assicurarsi che il cacciavite sia applicato sull'alloggiamento. Premere con attenzione il cacciavite verso il basso per aprire il gancio di bloccaggio. Fai lo stesso con il gancio di bloccaggio inferiore, quindi rimuovi il modulo dal connettore BUS. Et voilà! Fatto! SICAM A8000 Soluzioni pensate per un uso pratico. SICAM A8000